Il periodo natalizio è sicuramente quello che vede coinvolte soprattutto le realtà scolastiche, con re-eisital progetti vari e soprattutto l'educazione e la sensibilizzazione ai valori del Natale. Sono tante infatti le iniziative che sta portando avanti l'Istituto Comprensivo Tommasa Versa di Mistretta e questa mattina sono stati ben due gli eventi che si sono svolti nella cittadina nebroidea a cura degli alunni della scuola mastratina. Presso la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, nell'ambito del progetto Mistretta Vicchiaredda, è stato portato in scena dai bambini e dalle bambine della scuola elementare Plesso Neviera il re-eisital Natale Ruggirugi, con canti, recite di poesie e preghiere della tradizione mastratina, tutti in dialetto, un modo per conoscere le proprie radici e soprattutto per far scoprire ai più piccoli i sapori e le attese del Natale di un tempo. In aula consigliare, in mege, gli studenti delle prime medie hanno partecipato a un'iniziativa nata dalla collaborazione tra istituto scolastico e amministrazione comunale, ovvero la tombola sociale. In pratica i giovanissimi hanno partecipato alla classica tombola, tutti divisi per squadre e chi faceva ambo, terno, quaterna, cinchina e tombola riceveva ovviamente dei premi. Regali, di vario genere, offerti dalle varie attività commerciali a mastratine. Ma oltre allo scopo ludico, l'iniziativa ha avuto una finalità educativa. Infatti, ogni qualvolta una squadra vinceva un premio, veniva proiettata una slide, in cui si spiegavano le funzioni del consiglio comunale, dell'amministrazione, le azioni e le mansioni che devono svolgere per il bene della collettività. Insomma, una vera e propria lezione di educazione civica, che si è sposata con il divertimento e lo stare insieme giocando a tombola.